Radio Base Sono con Salvatore Valenti dell'azienda Apicultura Valenti di Fragnetola Abate, provincia di Benevento Quindi Campania, quindi altri prodotti campani e quindi parlaci un po' di miele ma non solo, anche prodotti a base di cera d'api mi dicevi Certamente, oltre che produciamo candele artigianali di cera d'api prepariamo confezioni natalizie abbiamo delle ottime creme per viso, corpo in più produciamo le nostre, diciamo proprio di base produciamo una crema di nocciole e miele gluten free che io, tra parentesi, scusami, l'ho provata! Buonissima! Grazie oltre a questo abbiamo un ottimo balsamico prodotto sempre da noi con oli essenziali biologici di eucalipto, domente e pinaco che servono ad aprire le vie respiratorie in questo periodo così brutto insomma che portiamo le mascherine Un vasetto per me, grazie comunque ottimi, ottimi tutti i prodotti un buon profumo tra l'altro e grazie per questa chiacchierata Grazie a te per avermi registrato Grazie Radio Base